Giorno, buongiorno, oggi è martedì 25 luglio, rassegna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, cielo variabilmente nuvoloso sull'intero territorio altoatesino, assenza di precipitazioni di rilievo, temperatura in linea con la giornata di ieri, flessione ancora dei valori massimi. In regia abbiamo questa mattina Massimo Moro, con il suo aiuto andiamo a vedere una suggestiva immagine che ci arriva dalla Val Pusteria, mare di nuvole che copre la vallata che ospita anche il centro abitato di Brunico, l'immagine ci arriva da Plandecolones, nuvole all'orizzonte. Come sempre la grafica, grazie alla collaborazione con gli esperti meteo, vedete temperatura in flessione per i valori massimi, a Bolzano nelle ore centrali non dovremo superare i 27 gradi, 26 a Merano, 22 a Bressanone, 21 a Silandro, 20 gradi a Brunico, solo 17 gradi nelle ore più calde nel centro abitato di Bipiteno. Le aperture dei quotidiani locali e nazionali che troviamo questa mattina in edicola, innanzitutto la stampa locale, ASL nasce la Casa della Salute, questo è il titolo di apertura del Corriere dell'Alto Adige, operazione da 50 milioni ai piani di Bolzano, l'assessore Stoker dice il risparmio sarà notevole per le casse provinciali. Tensione tra Parazzo Wideman e comune di Bolzano riguardo le eventuali limitazioni al traffico dei pendolari, l'assessore Musner stoppa le idee del sindaco Caramaschi. Il quotidiano Alto Adige, asili tedeschi con il filtro, nuove regole da parte dell'SVP per l'accesso di bambini italiani e stranieri. E poi profughi e senza tetto, il comune compra un immobile da 150 posti per gestire l'emergenza dei migranti. Il quotidiano in lingua tedesca Dolomiten, il tema è quello delle nuove regole, nuovi criteri per l'accesso alle scuole materne in lingua tedesca e poi sappiamo quello che è accaduto in Tranchino nel fine settimana con un orso che ha aggredito un escursionista, cosa potrà succedere in futuro e qual è la situazione in provincia di Bolzano. La cronaca lingua tedesca cura del quotidiano Tagest Zeitung, cosa accade quando un dipendente pubblico, magari uno dei vertici, ad esempio il direttore di un ufficio, decide di lasciare la pubblica amministrazione e intraprendere la carriera privata. Il caso di Ulrich Seitz a pagina 7 i dettagli. Il Corriere della Sera, le strazianti parole del padre, del piccolo Charlie, il bambino inglese malato affetto da una malattia degenerativa, i genitori si arrendono, non c'è più tempo per attentare una nuova terapia. L'Unione Europea sia seria, basta con le battute, Mattarella, Presidente della Repubblica, molto duro sui migranti e chiede la stessa fermezza all'Europa usata per le banche. Il sole 24 ore, Cattaneo lascia Team, si apre il dossier Canal Plus, il CDA si spacca ma prova l'addio di Cattaneo con una buona uscita da 25 milioni di euro. In chiusura vi ricordo, vi ricordo gli appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano, la festa, la festa di Brunico, la Stadtfest dal 28 fino al 30 di luglio, il 30 di luglio i 20 anni del Golf Club di Lana. È tutto, vi ringrazio, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33. Grazie.